Ho visto la possibilità, approfondendo il ruolo curatoriale, di lavorare come piaceva a me, cioè con gli artisti, a contatto con gli artisti o a contatto meglio con le opere. La possibilità di non curare delle mostre necessariamente legate a un concetto, con un tema da dimostrare attraverso dei lavori, ma la possibilità di lavorare direttamente con gli artisti a creare qualcosa di diverso con il loro lavoro, anche se magari è un lavoro già prodotto. Mi interessava in particolare la tematica del display e di come trattare le opere degli artisti in maniera corretta per l'opera, ma senza sottostare alla dittatura dell'artista. Le collettive sono una sfida per me, perché porterò domani una proposta abbastanza impattante sul lavoro di entrambi gli artisti che sarebbero esposti nella mia idea e mi piacerebbe prendermi più rischi di quelli che si vedono normalmente in giro. Ci sono dei casi di curatori molto presenti che non apprezzo assolutamente, perché ci sono quei casi in cui il display si mangia le opere. Ma così come sono? Forse è il setting... No! Io non sono fatta per essere creativa, quello lo lascio agli artisti. No!